Nel 2006 l'operazione Gota, tra le più importanti di quegli anni, aveva decapitato i vertici delle principali famiglie mafiose palermitane. Si trattò del seguito ideale del blitz che tre mesi prima aveva portato in carcere il boss Bernardo Provenzano e che vide finire in manette i suoi uomini più fidati. Adesso però sei capi mafia coinvolti nell'inchiesta sono tornati in libertà. La Corte d'Appello di Palermo ha scarcerato Salvatore Gioeli, Nunzio Milano, Settimo Mineo, Rosario Enzerillo, Emanuele Lipari e Gaetano Badaiacca. Tutti erano stati condannati a pene definitive superiori ai 10 anni. Dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulle pene da combinare ai boss e hanno rideterminato le condanne escludendo l'aggravante della recidiva. Questo ha comportato una liberazione anticipata dagli imputati che in alcuni casi hanno potuto lasciare il carcere anche quasi con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza della pena. I capi mafia scarcerati sono tutti uomini di spicco di Cosa Nostra. L'inchiesta che li ha portati in cella zerò alcuni tra i mandamenti più potenti della città e costrinse anche la mafia, ormai senza alcuni dei suoi punti di riferimento, a riorganizzarsi.